buonasera mi spiace per tutti coloro che speravano in un gol del piccolo balza io compreso ovviamente ma non c'è stato nulla a fare oggi sconfitta per 3 a 1 ma questa età ragazzi cioè allora trovate parlo della classe 2010 chi ha dei figli che giocano a calcio capiranno quello che sto dicendo tu trovi dei 2010 alti come mio figlio ok trovi 2010 alti così io sono alto 1 80 e oggi praticamente la squadra di mio figlio nella quale i tre quarti sono alti così ha trovato una squadra praticamente tutta alta così a quest'età c'è un salto generazionale tra chi si è sviluppato e chi ancora non si è sviluppato e quindi purtroppo si paga l'azio piccolo balza aveva segnato la settimana scorsa la prima giornata di ritorno e quest'oggi non non è riuscito a buttarla dentro vabbè comunque sono tutti i step di crescita quando si spera che arriverà poi la crescita quella effettiva di statura di corporatura di sviluppo che andrà di pari passo con l'anzianità di chi vi sta parlando perché ovviamente poi non è che uno si ferma magari ci si potesse fermare per aspettare la crescita dei figli che purtroppo è tutto direttamente proporzionale e purtroppo va così e quindi ragazzi miei io ancora per qualche anno sarò qui a parlarvi di juventus non per una vita intera no qui a parlare di juventus ci sarò ancora per tanto per tanto effettivamente sì poi per tutto il resto insomma si vedrà si vedrà vi terrò aggiornati sul futuro del balza vi terrò aggiornati sul futuro del balza che però non smetterà di parlare di juventus è assolutamente non smetterà di parlare di juventus perché perché è l'argomento che mi mi accompagna praticamente da quando sono bambino e che professionalmente mi accompagna dal 1991 quando ho messo piede a mediaset per la prima volta pensate era l'11 di settembre voi pensate a volte l'11 di settembre è una data che poi diventerà tragica da ricordare per tutta la storia della dell'umanità quello era il 91 e quindi come potrei smettere a parlare di juve dal momento che ho attraversato tutte queste epoche di juventus da praticamente da quando sono nato e quindi ho visto con i miei occhi la juventus di anastasi capello bettega ho visto quella successiva ho visto scudetti ho visto finale di champions le ho viste praticamente no tutte no le prime era un po troppo piccolo per andarci però insomma le ultime cinque o sei le ho viste no le ultime sì quattro o cinque le ho viste e va bene e poi ho visto la juventus rb ho visto anche questo mai poi mai avrei pensato di vedere la juventus rb e l'ho vista e seguita per volontà mia perché in quel periodo mi fu prospettato il fatto di rimanere serie a seguendo altre squadre io dissi no vado lì perché questo è il mio settore perché questa è la mia fetta di professionalità e e quindi io vado io vado dove c'è la juve non dico che mi presero per pazzo perché rinunciavo ad un grosso step professionale perché tra l'altro quell'anno noi di medias avevamo i diritti in chiaro c'era famosa la trasmissione serie a di bonolis se ve la ricordate ma io quindi potevo fare un salto dal punto di vista professionale partecipando a una trasmissione in chiaro collegandomi dai campi eccetera e ho detto no questa è la mia vita professionale e io vado dove mi porto la mia vita professionale cioè ho fatto la b spero di non farla ancora perché allora mi ero detto mai più e adesso vediamo adesso lo dico col sorriso perché naturalmente siamo siamo in attesa di quello che può succedere qualcuno è già sicuro che anzi se va bene se va bene la juventù sarà in via addirittura ci ma si ma addirittura come dire radiata ma si fuori dal calcio ma si cancellata ma si è come no ma si si mettono lì a fare le tabelline tutti i calcoli ci sono in giro veramente delle 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 situazioni che avrebbero bisogno di un approfondimento di un'analisi analisi proprio analisi bella bella mirata in profondità è bella mirata proprio analisi analisi da esperti mirata in profondità perché vorrei sapere cosa fanno durante la giornata certe persone sono tante eh tante hanno i loro capi popolo eccetera ma vorrei sapere veramente cioè passano tutta la giornata a fare i conti calcoli anticipare le semplici cioè vivono di quello tu voi pensate la juve cosa è in grado di fare la juve è in grado di scatenare una passione immensa per chi la tifa e una soddisfazione immensa perché quando sei della juve vinci comunque qualcosa prima o poi vinci e sono più gli anni che vinci negli anni in cui non vinci e di rimando scatena una eh una ossessione una voi pensate è perché poi è l'altra faccia della medaglia della potenza di questa squadra di questa società di questo nome no nessun altro nome è in grado di scatenare questa eh bipolarità ecco bipolarità di sentimento la passione l'amore e l'odio non c'è un appassionato di calcio che ti dica la juve mi è indifferente no trovi lo juventino è quello che odia la juve è veramente cioè è veramente lo specchio di quanta potenza a livello mediatico a livello sentimentale perché il sentimento è sia l'amore che l'odio è quindi di quanta potenza sentimentale abbia questa squadra come nessun'altra non c'è milan non c'è inter non c'è roma non c'è napoli non c'è Lazio senza che nessuno si senta offeso ma lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni tutti i giorni quando io dico che l'Italia è divisa in due o più o meno tra juventini e anti juventini che poi hanno come sottotitolo non voglio sto generalizzando e poi nello specifico ci sono i veri tifosi della propria squadra che non guardano le altre ma generalizzando sono juventini e poi hanno come sottotitolo hanno la loro squadra di fede all'eslusione dei tifosi veri dei tifosi quelli che badano alla loro squadra e non guardano in casa date ecco l'altra cosa ecco mi è mi è uscito proprio adesso questo termine e quanti quanti veramente passano il loro tempo andare a guardare in casa della juve mentre difficilmente chi a partire dal mondo juve va a guardare in casa degli altri o comunque c'è una netta differenza e sproporzione tra chi guarda da anti juventino in casa della juve e chi guarda di ventino in casa degli altri è veramente un'ossessione questa squadra ha veramente bipolarizzato il sentimento degli sportivi sto generalizzando ripeto degli sportivi italiani veramente cioè questo nel bene e nel male si ha quotidianamente la percezione di quanto la juve sia una cosa completamente diversa dagli altri è un dato di fatto è cioè qui non non c'entra niente non c'entra niente nessun altro discorso è un dato di fatto a livello politico a livello sociale a livello giuridico a livello passionale la juve è una cosa a parte a parte sono andato a braccio questa sera perché onestamente non non avevo altri argomenti sull'inchiesta non ci sono novità sulla possibile formazione di martedì ci andiamo naturalmente lunedì vediamo se in questi due giorni recupera chiesa che oggi ha lavorato a parte pogba ha lavorato con il gruppo e quindi ci sono effettivamente delle grosse indicazioni sul fatto che possa essere convocato per il der ci fermiamo qua ragazzi ci vediamo domani ok iscrivetevi al canale grazie perché siete talmente sempre in tanti e sempre di più e io non posso fare altro che ringraziarvi ciao